Entrerai al monastero, provvederanno i benedettini alla tua educazione. Li vedi quelli tutti incappucciati? Non sono monaci, sono donne, le loro amanti. È arrivato l'antichrist! Chiudiamoci nel monastero o ci uccideranno tutti! Siamo liberi. Viva la libertà! Libertà è una parola che non significa niente, ma che accontenta tutti. Libertà significa anche che ora che l'Italia è fatta, dobbiamo farci gli affari nostri. Voi siete di destra. Il presidente del consiglio non è di sinistra? Destra, sinistra, oggi non significano più niente. Ti sei illuso del tuo amore con Giovannino, ma è suo fratello Michele che ti vogliono far sposare. Sì. Michele, lo Scorpio. Un discendente dei vicerre che trama contro il suo stesso sangue. I padri operano per il bene dei loro figli, non per la loro infelicità. Se non lo sposi, non sarei più mia figlia. E allora non sarò più bottatico. Devi andare da qua con Salvo. Sempre becose di fretta e senza riflettere. Il male nel nostro sangue. Per sconfiggere il male il bene non basta. Qua tutti mi odiano. Ti ho insegnato a odiarmi. È l'odio che ci fortifica. No, l'amore, come dicono i deboli, l'odio che ci tiene in vita.